Diciamo che comunque Avellino la conoscevo già abbastanza bene, ci sono venuto a giocare un po' di volte quindi diciamo che non è stata una sorpresa. Sicuramente Avellino è una città stupenda e mi sono trovato subito bene, diciamo già da ieri quando sono arrivato. Il roster sicuramente è molto competitivo, non mi sbilancio, tutto si vedrà quando inizieremo preparazione però già dai nomi sappiamo che dobbiamo far bene, quest'anno dobbiamo far bene. Sicuramente è un campionato un po' particolare, pre-riforma, quindi cambiano un po' di cose ma sicuramente il nostro obiettivo sarà di stare tra le parti alte classifiche, quindi sicuramente tra le prime quattro. Sicuramente di venirci a seguire perché comunque il roster è competitivo, ci serve sicuramente più aiuto anche da parte del pubblico, anche perché il Palazzo del Mauro è un super palazzetto e vederlo pieno sarebbe bellissimo e ci aiuterebbe anche a noi a raggiungere i nostri obiettivi.